Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Fabbro e Valdichiana, rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di manutenzione straordinaria ha chiuso il tratto da Viale Pieraccini all'ingresso del parcheggio di Villa delle Rose. Chiudiamo con i treni, ricordiamo che per lavori la circolazione tra Pistoia e Montecatini Terme è sospesa fino al 31 agosto, servizio garantito con corse bus. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!